I carabinieri della compagnia di Casarano hanno effettuato una serie di controlli anche con l'ausilio di unità cinofile. A Ugento, dopo una denuncia di furto di uno smartphone, i militari hanno acquisito e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza di un locale pubblico in cui era avvenuto il furto e nei giorni successivi hanno identificato la ladra. Si tratta di una donna di 28 anni. Il telefono cellulare è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario. A Ruffano i militari hanno invece condotto un'indagine telematica seguita ad un'inserzione fraudolenta di un telefono cellulare su un noto network di vendite. L'oggetto era offerto ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato, pagabile con ricarica post-pay. La vittima, dopo averla effettuata, ha però ricevuto un pacco vuoto a casa, ma grazie agli accertamenti si è risaliti ad un 24enne truffatore di origini campane. Inoltre, a Collepasso, sempre a seguito di una inserzione di vendita su internet di un cellulare, è stato identificato un uomo di 55 anni, quale responsabile di truffa tramite accreditamento sul proprio conto corrente bancario, di 350 euro, salvo poi essersi reso irreperibile per la consegna della merce acquistata. A Parabita, i militari hanno inoltre sorpreso un 27enne a bordo di una vespa con telaio a braso. Si trattava di un ciclomotore rubato e infatti l'egittimo proprietario lo ha subito riconosciuto. Il denunciato è stato tra l'altro sottoposto a prequisizione e nei pantaloni aveva un coltello a serramani con lungo 21 centimetri. A Collepasso, denunciato un 33enne per raccolto e trasporto di materiale ferroso privo di autorizzazione, mentre a Traviano un 23enne del posto è stato trovato in possesso di una mazza da baseball nascosta sotto il sedile e denunciato pertanto per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Quattro le persone denunciate tra Taviano e Racale per guida compatente mai conseguita o revocata. Sei invece le denunce del nucleo radiomobile di Casarano per guida in stato di ebrezza e per quanto riguarda le denunce sono tre a Casarano e Taviano, quelle per violazione dei sigilli poiché responsabili in qualità di custodi giudiziari dei veicoli già sottoposti al sequestro li rivendevano o comunque li alienavano. Nell'ambito del contrasto alla contraffazione è stato poi sorpreso a Racale un 34enne senegalese che vendeva merce contraffatta tra cui 12 paie di scarpe delle più note marche. Le unità cinofile impiegate anche all'interno di istituti scolastici per contrastare lo spazio e il consumo di droga tra gli adolescenti hanno portato infine alla scoperta anche grazie alle perquisizioni nell'abitazione di quattro persone di un grammo di cocaina, 16 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish. I detentori sono stati segnalati alla prefettura di Lecce.